LUKE 4316 Ciao a tutti ragazzi, sono Luke, scusate stavo finendo di stendere la roba Bene, faccio questo vlog ragazzi Perché molti di voi mi hanno chiesto di far vedere un po' casa mia o dove abito, comunque le mie cose E ho deciso di fare questo vlog Bene, questa è la mia villa ragazzi, questo è il mio giardino Questa è la piscina dei bambini Una volta c'erano dei pesci dentro ma non ne vedo più Bene, ora vi faccio vedere la mia vera, la mia casa vera e propria Questo è il giardino, la mia villa diciamo Eh, chi te la chi? Questa è casa mia Questo è il mio pc Ok ragazzi, credo vi faccio vedere tutto Qua c'è la camera da letto, non ci vado perché è tutto in disordine E basta, questa è casa mia E che dirvi ancora? Sì, posso farvi vedere la mia macchina Dovrei averla messa in garage, andiamo a vedere Ok, è chi te la chi? È una lancia delta E l'ho comprata da poco, ve la faccio vedere giusto così No, non è questa ragazzi, questo è un altro giocatore, non sono io Che cavolo Oh Ok, infatti Ah, che bello eh I bug del gioco Sì ragazzi Sono i multiplayer e il gioco Il gioco sta andando contro mano Il gioco si chiama Test Driver Unlimited 2 L'ho acquistato ieri su Steam Ci ho giocato un po' in live prima Di caricare questo video stamattina Per far vedere il gioco a chi c'era in chat E... Credo tutti lo conosciate Per chi non lo conosce è un gioco tipo Simile a Need for Speed Però si possono comprare case, macchine, vendere, comprare Si fanno le gare, missioni Bisogna fare soldi, eccetera Sbloccare tutta la mappa E salire di livelli Giriamo a destra Per cui facciamo un giro Scusa, non l'ho fatta apposta C'è l'assicurazione scaduta Bene, dicevo Facciamo un giro per la città Invece di fare delle gare Volevo fare delle gare ma Meglio fare dei giro in città Bene, andiamo piano E seguiamo i cartelli Cavolate varie Aspettiamo il verde Intanto magari vi dico un paio di cose Allora, che volevo dirvi ragazzi Andiamo piano piano Rispettiamo i limiti di Ilocità, non come quel pirla La polizia Ciao Dicevo Ragazzi, scusate se Ultimamente sto caricando pochi video Ma come già detto E vi ripeto Per alcuni che Non guardano tutti i miei video Questa è l'agenzia immobiliare Dove comprare o vendere I beni immobili Si, non voglio adesso Comprare la casa Non c'ho soldi Dicevo, carico pochi video Perché Ho una connessione ridotta Ragazzi Fasto mi ha dimezzato La connessione Non so per quale motivo Magari per il caldo Non lo so E non so più come fare Per cui sapete che io Caricavo due, tre, quattro video al giorno E ritrovarmi con la connessione Non a metà Ma a meno della metà Per me è un casino ragazzi Veramente mi ha sballato Tutti i miei piani E mi dispiace Perché io ci tengo a caricare video Mi diverto E se non li carico Non sono io Per cui Veramente Ho Cioè Li carico lo stesso ragazzi Ma sappiate che Ci metto veramente Tanto tempo per caricare un video Per cui non riesco a mantenere La frequenza Mia Che dirvi I video comunque si Arriveranno allo stesso E Speriamo mi arrivi La mia connessione Normale Tutti i rossi Io li sto beccando E Chi è che volevi A fare un giro con me ragazzi Perché sapete che In multiplayer Potete venire Anche in macchina con me Non avete paura Non avete paura Che dirvi ragazzi Posso dirvi qualche cosa Più Vediamo un po' Che posso dicirvi Posso dirvi che Molto probabilmente Inizierò a fare altri giochi nuovi Riprenderò la serie Che avevo preso Quella di mostrarvi Di giochi nuovi Magari Questo è un altro gioco Poi Ne caricherò un altro Che ho comprato sempre ieri Non mi ricordo come si chiama Ma che bella vittoria Che manco ho giocato Tutti i rossi Sto beccando ragazzi Ok Dicevo Che dicevo Ah si Caricherò altri giochi Uno l'ho comprato ieri Non mi ricordo il nome Ve lo dirò Credo nel prossimo video Minecraft Si ragazzi Devo caricare anche Minecraft Ma Sto impazzendo con la connessione Non è colpa mia Capiatemi Capiatemi E poi che posso dirvi ragazzi Oltre a dirvi Le solite cose di sempre Seguitemi in live Grazie a tutti quelli Che continuano a seguirmi in live Nonostante i problemi E nonostante sia stato bannato All'altro canale Che Stranamente mi hanno riaperto ieri Per cui il canale è ancora aperto Il primo canale Di Ustream E per chi non sa Per chi non lo sa Ero stato bannato Perché Ho trasmesso Dalla Rai La partita di Italia Spagna Sono un pirla ragazzi Si è la colpa mia Mi sono fatto bannare Come un pirla Lo ammettico Non dico che sono Bimbi minchia Quelli che mi hanno segnalato Il canale Quelli ormai Sono conosciuti Dappertutto Però è stata anche Colpa mia Diciamo Ammetto Prendo le mie responsabilità Ammetto di aver sbagliato E E E Molto probabilmente Probabile Farò alcuni video Con la videocamera Non so se mi faccio Riprendere io O riprenderò altre cose E Ho già qualcosa in mente Ma non so bene Di preciso Cosa fare con la telecamera Magari la butti In acqua Ma vediamo Che dirvi ragazzi Mettete come sempre Al solito Come sempre Al solito Mettete il pollice in su Al video Se vi piace il gioco Se Volete altri video Di questo gioco Volete vedere delle gare Apposite E comunque sia Io vi mostrerò Un po' di giochi Ragazzi Come ho fatto finora E I video più votati Diciamo Più Con pollici più in su Magari farò Altri episodi Di quel gioco stesso O magari farò Video di tutti i giochi Lo stesso ragazzi Continuerò Fier Continuerò Desuffering Li continuerò tutti Ve l'ho detto Il problema È la connessione Non il La voglia di fare i video Perché quella c'è sempre Ragazzi Li farei dalla mattina Alla sera E lo sapete Bene Detto tutto questo Ragazzi Mi sarò dimenticato qualcosa Sicuramente Poi mi verrà in mente Dopo il video Lo scriverò nei commenti Direi di accelerare un pochettino Fare un paio di testa coda E salutarvi Scusate per la mia macchina schifosa Ragazzi Quando ne sbloccherò Ne comprerò una migliore Farò magari un altro video Che ne dicete Che ne dicete Uè Vi faccio vedere La potenza Di questa macchina È la polis Polis Ma tu Te lo riprendo Te lo riprendo Te lo riprendo Fermiti Fermiti Dove l'hai finito Era qua una volta L'ho perduto Ragazzi Mi dispiace Di queste cose Aspettate che Arrivo subito ragazzi E vado a dirgli Che non lo trovo più Fatti i cazzi Tu per favore Facci inversione Lei stia zitta Scusa Allora Io ho cercato il pezzo Ma non l'ho trovato Glielo mando via posta Via email Come lo vuole Oh Stop Dove cazzo è finito Sono spariti Ma che joke Baggate 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 Bene ragazzi Siamo arrivati alla fine Anche di questo video E Mentre no Oh porco cazzo E mo Che gli dice a questo Che non c'ho l'assicurazione Io lo dico io O lo dite voi ragazzi Io lo dico io Amico Non ho l'assicurazione Passi un'altra volta Salve Bene Dicevo ragazzi Siamo arrivati alla fine Anche di questo video E Che posso dirvi Dopo questo Brutalmente Testa coda La macchina Fa un po' schifo ragazzi Non è Quella putenza E Vi dico che Una cosa importantissima Da sapere Che da Luke è tutto Ciao a tutti Che cazzo fai Pirletta We